Quest'anno voglio iscrivere nostro figlio al Torol Ski Center, l'unica scuola di pattinaggio di velocità della provincia di Pesaro Urbino che opera a Pesaro, Fano e Senigallia. Offre un progetto strutturato e completo accompagnando l'atleta nel percorso di crescita. Certo, visto che non sa pattinare, lo iscriviamo al percorso base. La scuola fornisce anche i pattini a chi ne è inizialmente sprovvisto. Figli di alcuni miei amici hanno iniziato per gioco, poi si sono appassionati alle gare e agli eventi. È un ambiente davvero divertente. Non vedo l'ora di imparare a pattinare e divertirmi con lo staff del Torol Ski Center.